Sono reminesi gli aspiranti automobilisti più bravi della Romagna, un dato che arriva dall'elaborazione del centro studi di Autoscout 24 su base del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In Emilia Romagna nel 2019 40.858 persone hanno superato l'esame finale di guida per la patente B, pari al 77,2% sul totale, la media nazionale dell'84,8%. Un dato quest'ultimo che posiziona la regione al sedicesimo posto in Italia per tasso di promossi. Dalla provincia la percentuale più alta di promossi alla guida si registra a Bologna 87,8%, poi Rimini 86,7%, a seguire Piacenza 82,4%, Reggio Emilia 78,6%, Ferrarra 76,9%, Parma 75,2%, Modena 73,1%, Forlì 67,9%, Lodi 79,3% e agli ultimi posti Forlì-Cesena 67,9%, Ravenna 61,8%. Ma l'esame di guida rappresenta soltanto la fase finale del test e prima è necessario superare la teoria dove il dato degli idoni nella regione si ferma a 67,6%, un valore comunque superiore alla media nazionale di 66,5%. Secondo l'analisi realizzata dal Centro Studi di Autoscout24 condotta su giovani utenti neautomobilisti dai 18 ai 24 anni, la maggior parte riguarda la generazione Z, giovani che vogliono essere finalmente autonomi e poter gestire il proprio tempo, il 72%, ma che vedono la patente anche come una conquista personale, 51%, oppure un mezzo per viaggiare, 44%. Ragazzi che preferiscono spiegano l'auto agli altri mezzi per i pro... Ragazzi spiegano che preferiscono l'auto agli altri mezzi per i propri spostamenti quotidiani, 85%, ma che hanno caratteristiche di guida diverse. Per lo più positive, da un lato la maggioranza composta da sicuri 46%, attenti 21%, prudenti 14% e calmi 9%, dall'altro fortunatamente limitati dagli spericolati, incoscienti 8%, arrabbiati 2% e distratti 1%.